Numero 5. La moto zappa benzina Greenline H155 rappresenta una perfetta combinazione di qualità e potenza. Progettata e costruita in Italia, offre un motore americano Briggs Stratton 750 Series da 163 cm3, garantendo una forza straordinaria per lavorare senza sforzo. Grazie al motore OHV a valvole in testa, la moto zappa è estremamente efficiente, con bassi consumi e basse emissioni. La fresa da 75 cm, composta da 6 elementi con carter di protezione e dischi proteggipiante, garantisce un'ampia copertura, mentre il diametro di 32 cm e la profondità di lavoro massima di 24 cm permettono di raggiungere un terreno profondo e fertile. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 4. La moto zappa a benzina Rewall è la soluzione ideale per chi cerca un macchinario affidabile e versatile per la cura dei terreni di casa. Con una cilindrata da 140 cm3 e una larghezza di lavoro di 40 cm, questo potente attrezzo è equipaggiato con un motore da 4 tempi OHV e una potenza di 3,17 kW, garantendo prestazioni di alto livello in termini di efficienza e affidabilità. Grazie alla sua profondità di lavoro di 26 cm, è perfetta per lavorare anche terreni più compatti, facilitando così il lavoro dei coltivatori. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. Questa moto zappa a benzina è la soluzione perfetta per chi cerca una macchina leggera ma efficiente per lavorare il terreno. Dotata di un motore OHV a 4 tempi con valvole sulla testa, questa moto zappa garantisce una buona potenza e una maggiore durata nel tempo. Grazie ai 6 gruppi di frese, 4x30 mm di sezione, e alle lame rimovibili a doppio bullone montate su un asse da 25 mm, è possibile regolare la larghezza di lavoro scegliendo tra 6 o 4 gruppi di frese. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. La moto zappa a benzina di Honda è un prodotto di alta qualità che non ha nulla da invidiare ad altre marche presenti sul mercato. Il motore GP 160 a benzina 4 tempi da 163 cm3 è il cuore della macchina, ecologico, durevole e affidabile. Grazie alla tecnologia di casa Honda, questa moto zappa è in grado di eseguire lavori difficili con la massima potenza e il massimo comfort. Il design moderno ed elegante la rende un prodotto di classe che non passa inosservato. Perfetta per qualsiasi tipo di terreno, è sicuramente una scelta intelligente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 1. Questa moto zappa benzina con motore Emac K800 a quattro tempi è sicuramente una scelta affidabile per chi cerca prestazioni di alto livello e una qualità costante nel tempo. Grazie alla disposizione delle valvole in testa, alla canna cilindro in ghisa e al pistone a doppio segmento, questo motore rispetta le normative antinquinamento e offre numerosi vantaggi come una maggiore coppia, una riduzione dei consumi di benzina e olio e un minor rumore e vibrazioni. Un'opzione da considerare per chi ricerca performance e affidabilità in un unico prodotto. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.